Allora Roberto Lacorte qui alla Viareggio Bastia Viareggio hai ricevuto un bellissimo premio il premio innovazione per Fly in Nica insomma un bel riconoscimento no? Grande onore, bellissimo evento, complimenti al club anotico Bersilio, a tutto il commentato organizzatore e un po' venire a studiare quello che faremo il prossimo anno perché la mia promessa di venire qua è totale quindi dovremmo andare a rompere il record che ha fatto l'Arca e lavoreremo per essere qua il prossimo anno e fare un bel lavoro. Questo è Roberto Lacorte regatante competitivo e poi c'è anche Roberto Lacorte organizzatore di regate, hai speso belle parole di complimenti per l'evento, a te questi questi formati piacciono, hai ideato la centocinquantuno miglia insomma questo anche come distanza ci siamo centocinquantamili. Ma sì sono belli si vede stasera, una bella serata, è la edizione zero quindi una partecipazione ancora limitata ma si tratta di tener duro perché le barche arriveranno sicuramente, il percorso è bello, a Viareggio si merita un evento del genere, c'è tanta passione che si muove intorno a questo evento qua e quindi la seconda edizione sarà sicuramente interessante e noi della centocinquantuno miglia siamo veramente felici che ci siano queste continuità su questo format dedicato e molto belle. Grazie Roberto Lacorte